Per il 5 Stelle e Toninelli il voto francese ha decretato la sconfitta dei partiti tradizionali. Dobbiamo però constatare che Le Pen e Macron non assomigliano per nulla al Movimento 5 Stelle. Non si sono tagliati i stipendi, non hanno restituito i rimborso elettorali e soprattutto non si impongono due mandati. Io penso che solo il Movimento 5 Stelle ha queste caratteristiche in tutta l'Europa.